L'orata al forno con i pomodorini è una ricetta per tutta la famiglia. L'orata infatti che qui vediamo, qui l'orata selvatica la migliore dal punto di vista del gusto, è un pesce che piace tanto agli adulti ma si presta anche benissimo alle esigenze di leggerezza e di facilità anche di consumo dei bambini. È un'ottima fonte di proteine che non ha alcuna controindicazione. Adesso possiamo andare a vedere come si fa la ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.